Ciao a tutti amici dal Pollice Verde Oggi sono qui con la mia amica coccinella per parlare con voi di semina e bambini Ovvero vedremo come seminare con alcuni materiali di recupero insieme ai nostri piccoli pollici verdi Allora non ci dobbiamo spaventare, non abbiamo bisogno di grandi materiali tecnici La cosa forse più problematica, se così vogliamo dire, da reperire saranno dei semini Potete regarvi in un garden fornito oppure in una qualche agricola O anche su internet si trovano delle aziende che vendono semi assolutamente made in Italy Insomma vi potete divertire e spaziare come volete Vi invito a seminare magari dei semi amici delle api Ma arriviamo un po' a noi, qual è il materiale che vi occorre? Allora io qui con me ho dei contenitori delle uova Ho una vaschetta di quelle dove si tiene la frutta Dei rotoli di carta igienica Ho poi della terra, eccola qua E poi in ultimo ma fondamentale l'acqua Allora perché utilizziamo questo materiale? Perché sarà molto divertente poter colorare e realizzare il nostro piccolo semenzaio casalingo Allora, la parte delle uova è molto divertente perché noi potremmo chiudere una volta che avremo riempito con la terra Come potete vedere io qui ho già messo del terriccio Il terriccio deve essere leggero e una cosa molto importante deve essere umido Questo perché noi stiamo andando a creare una sorta di lettino per il nostro seme Ed è fondamentale creare un letto, un giaciglio che sia comodo Un posto dove il seme si senta al sicuro e soprattutto trovi le condizioni ideali per poter spuntare Una volta che abbiamo riempito con il terriccio il nostro contenitore delle uova Andremo a fare un buchetto, un buchino per mettere i semini Con che cosa? O potremmo farlo fare ai bambini, quindi con il ditino Oppure possiamo utilizzare una matita o il sotto, insomma, di un cucchiaio Andremo a fare un buchino E una volta che abbiamo fatto il buchino, ecco qua Adesso vi faccio vedere Andremo, stringeremo nelle mani il nostro semino Per dargli tutta la nostra energia E lo porremo nel buchetto che abbiamo appena predisposto Allora, non andate a mettere troppo in profondità il seme Questo perché? Perché di solito va messo in base alla grandezza del seme Andrà riposto direttamente proporzionale alla terra Una volta che avremo disposto i nostri semi Dopo che avremo fatti i buchini Andremo a coprire con ulteriore terriccio In maniera tale da poter, senza esagerare Andremo a coprire E una volta che abbiamo coperto con il terremono Andremo nuovamente a bagnare È ideale, diciamo, bagnare con uno spruzzino Perché in questo modo il seme non si muoverà tantissimo E daremo la giusta umidità al terreno È importante durante tutta l'attesa della germinazione Appunto che il seme comincia a nascere Mantenere il terreno umido Una volta che abbiamo fatto questa operazione Ecco qua Noi chiudiamo questa scatolina magica Allora, una volta che avrete creato la vostra casetta per i semi Sarà divertente con i bambini decorarla Magari scriverci sopra che cosa abbiamo piantato Oppure farci un bel disegno Controllate tutti i giorni lo stato di crescita dei vostri semini Una mantenendo sempre umida la terra Una volta che saranno spuntate le prime 5 foglioline Potrete dividere il contenitore e andarlo a riporre in un vaso O nel vostro balcone, nel terrazzo o in giardino Il procedimento tecnicamente è lo stesso Se andiamo a utilizzare una vaschetta Di quelle dove si contiene a volte la frutta E dei rotoli di carta igienica Sarà importante chiuderli nella parte Che andrà a appoggiare sulla vaschetta Proprio per evitare che si disperda il terriccio Oppure ci possiamo mettere dei sassi Tipo questo Per tenerlo dritto Una volta che abbiamo messo la terra E ci andranno i semini Una volta che cresceranno Sarà facile poterli spostare E metterli a quel punto in un vaso Ed ecco qua il consiglio della nostra amica coccinella Che cosa dovete fare? Innanzitutto divertirvi insieme ai vostri bambini Piantare gli amici delle api e delle farfalle E soprattutto divertirvi Tenete i semi in un luogo all'ombra Lontano dalla luce diretta del sole Almeno finché non vedete i primi germogli Provate e se vi è piaciuto questo video Lasciate il vostro like Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.